e dopo il primo ricordo di cristina ragazzi andiamo a prenderci questa è la piramide cestia mamma mia è così piccola ma è tipo il doppio vabbè andiamo comunque a prenderci il secondo sigillo di bruto che è esattamente qua sotto mazza o completa entro 8 minuti sempre va bene via ciancia le bande livello massimo di ricercatezza così possiamo chiamarlo ok di qui se la faccio entro 8 minuti al primo colpo sono un genio assoluto sono proprio il genio del male queste sono le catacombe che si trovano a roma sud eh sì tipo san callisto quelle parti lì anche perché palese roma sud qua quelle qui sono andato io non sono proprio vicino alla piramide cestia però anche vero che di catacombe a roma ce ne sarà chilometrate sane che bello sto parkour proprio così liscio liscissimo monta carichi e via localizziamo la tana e soprattutto evitiamo di cadere magari che andiamo merda vabbè dato che ci siamo lo prendiamo è fanculo bastardo va andato il vento dici di qua non siamo già stati qui no no è l'ora su ripeto mi mettere a prendere anche collezionabili però non posso perdere tempo me la rigiocherò con calma e gli andrò a prendere trovata trovata raga aspettate un secondo però cosa fai Ezio oh cazzo di qua ok funzionato e dritto poi merda sti scrigni che mi depistano di qua mi sa che qua ragazzi la sincronizzazione totale eh però sei stronzo eh dritto 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 mi sto cagando addosso sempre per sta sincronizzazione di merda che devo fare eh vabbè eccoci arrivati al nodo della questione dov'è tutto andrà a farsi avete capito cerco coloro che guidano i seguaci di Romolo che bel linguaggio che bel linguaggio vabbè noi ci proviamo ragazzi ma la vedo molto dura va tutto a sta velocità qui però ti devi girare ti devi girare ti devi girare ti devi girare via 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 chissà perché il secondo non cade mai però vabbè perfetto un modo per risalire sali qui forza 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 70 metri la vedo molto dura di riuscirci però ci dobbiamo provare via 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 corri Ezio cazzo merda un vicolo cieco merda un altro vicolo cieco forse di qua è la strada giusta mi sono perso fanculo forse ci siamo forse ci siamo non ci siamo non ci siamo ancora ragazzi ascoltaci orramolo che cosa dobbiamo fare di questo intruso non l'ascoltate costui parla solo a nome dei borgia non del vostro dio e adesso c'è da rampicarsi su per forza via 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 E anche stavolta La dro andare a rigiocare che palle Vediamo quanto mi manca alla fine Che gran peccato raga però Togliamoci di qua prima possibile Ok se la camera è qui Allora è fattibile Ok ma me la prendo con calma Comunque vabbè Si è fattibile Pensavo di no ma In 8 minuti questa è più fattibile di quella di prima ragazzi Però ora io non voglio muovere una critica al gioco Per carità però Secondo me Secondo me Potevano portarlo a 10 minuti L'obiettivo è non a 8 Ma ripeto Ognuno Fa i calcoli con le proprie abilità Però secondo me potrò anche portarla a 10 Torniamo a Roma E poi la farò prependere tutti i collezionabili Ma non vi preoccupate che Ne rigiocherò E otterrò quello che voglio Minchia che colorazione Grazie a tutti